Sono tante le iniziative nell'ambito del Maggio Castiglionese, ma questa è una piccola chicca che torna, nata un po' con una sfida tra vini, Piemonte, Toscana, quest'anno torna con l'omaggio alla Toscana e quindi siamo nei vini di casa. Stiamo parlando di questa mostra dedicata proprio al vino, poi ci saranno anche degustazioni. Sì, riprendiamo quel percorso che è riuscito molto bene nel 2019 quando omaggiamo i grandi vini d'Italia. In questa seconda edizione di questa mostra del vino ristringiamo un po' la parte geografica parlando della nostra bella Toscana che non è solo terra di arte, di storia, ma è una terra anche di grandi vini. Per cui omaggiamo i vini della Toscana percorrendo un po' storie, aneddoti, tecnicismi e divertendoci così e aprendo una mostra che sicuramente crediamo come quella del 2019 possa essere di grande interesse. Ecco, ricordiamo la data, la collocazione e poi ci sono, come abbiamo detto, anche degli incontri. Allora, noi partiamo con il 30 aprile, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. All'interno di questa mostra quest'anno organizziamo anche quattro incontri. Sono degli incontri piacevoli a numero chiuso, si può trovare il numero nella locandina per prenotare, dove degusteremo nel primo incontro i Super Tuscan, vini straordinari toscani che sono qualcosa d'unico. Poi troveremo due cantine di Montalcino, per cui parliamo della Jetta e di Salvioni, due grandi cantine di Montalcino, per concludere con la cantina imperiale di Bolgheri. Per cui sono incontri piacevolissimi, dove avremo sia i titolari che sommelier a spiegare questi vini veramente interessanti. Grazie a tutti.